Dal 16 al 18 giugno a Imperia torna la vela, la vela importante, le regate importanti, ne parliamo con Fulvio Parodi, presidente del Yacht Club di Porto Maurizio, classe Dragoni e 5,50 se non erro, meglio dare la parola all'esperto però. Esatto, saranno tre giornate di regate che riteniamo fantastiche perché vedranno in mare dei veri gioielli, quasi tutti in legno, delle barche metriche e a formula che hanno fatto la storia dello yachting e delle barche a bulbo. Queste barche saranno a Imperia, appunto come dicevo, stiamo aspettando di sapere se il grifone della Marina Militare di Spezia, che è un 5,50, riuscirà a trovare un passaggio per venire fino a Imperia, ce l'hanno promesso e quindi sarebbe un onore poterli avere sulla linea di partenza. Questa è una regata che sarà fatta sia dallo Yacht Club Porto Maurizio Yacht Club, sia dallo Yacht Club Imperia perché c'è ormai questo sodalizio che va avanti. Una sinergia che funziona. Una sinergia che va avanti da quasi due anni con le nuove dirigenze dello Yacht Club Imperia, dirigenze che sono fatte da persone che vanno in barca, che amano il mare e che non hanno nessun altro secondo fine. E quindi è un piacere lavorare insieme, parliamo lo stesso linguaggio e stiamo lavorando fortemente sia per le manifestazioni e sia anche per la scuola vela e quant'altro. Stiamo lavorando bene e devo ammettere che abbiamo anche un ottimo riscontro con il Consiglio d'amministrazione della Goimperia che ci sta venendo incontro. Stiamo cercando di trovare spazi per poterci ingrandire e continuare a aumentare le manifestazioni che sono il volano sia di un porto turistico come il nostro che una città turistica come abbiamo. Allora ripetiamo le date per tenere gli occhi sul mare per i Dragoni, 5,50? 16, 17 e 18 giugno. Quindi l'appuntamento è dato per queste date per vedere delle barche meravigliose che saranno ormeggiate davanti alla Palazzina Liberty sui pontili della Goimperia e faranno bella mostra di sé e varrà la pena venirgli a dare un'occhiata.